La notte del 19 febbraio è venuto a mancare Umberto Eco. Con Umberto Eco evidentemente la cultura italiana perde uno dei suoi più grandi punti di riferimento a livello internazionale, direi anzi che la cultura mondiale è orba di uno dei suoi più grandi spiriti intellettuali e letterari. Io conobbi e vi la fortuna di conoscere Umberto Eco intanto tramite la manifestazione milanesiana organizzata da Elisabetta Sgarbi quando dopo un incontro nell'estate 2011 andammo poi a cena insieme e poi più da vicino lo conobbi sempre nel 2011 quando organizzamo insieme all'amico e collega Marco Trainito una presentazione del libro dello stesso Trainito dedicata al Umberto Eco che aveva anche un'intervista inedita di Umberto Eco e presentammo il libro alla presenza di Umberto Eco al Punto Rosso di Milano nel novembre 2011 e mi ricordo che naturalmente rimasi colpitissimo dalla cultura enciclopedica straordinaria, versatile del professore Eco e discutemmo ampiamente delle tesi del libro e io ebbi modo pur nel rispetto del gigante che stava accanto a me in quell'occasione di muovergli alcune critiche anche da un punto di vista rein theoretisch, filosofico, perché essenzialmente gli feci notare come il nome della rosa, il grande romanzo filosofico letterario che l'aveva reso celebre in tutto il mondo, in qualche modo ci restituiva a mio modesto giudizio un'immagine in parte distorta del Medioevo perché era molto più presente l'ideologia postmoderna in quel romanzo rispetto alla filosofia medievale, quando i personaggi nel libro sembrano dividersi fra, diciamo così, fra teorici del postmoderno e del relativismo nichilistico camuffati con la tunica medievale da una parte e dall'altra invece cristiani oltransisti pronti alla maniera integralistica a morire in nome di Dio, gli feci notare questa cosa e mi ricordo che ecco non recepì molto, in realtà ognuno rimase con le proprie convinzioni di partenza, però fu un momento di incontro dialogico molto fecondo e molto anche aspro da un certo punto di vista, io senza curarmi della grandezza di questo gigante che stava accanto a me andai a muovergli queste critiche, poi dopo la presentazione andammo, mi ricordo, a mangiare alcune cose, a bere lì vicino nella zona della stazione Garibaldi di Milano e io eccoci, prendiamo la libertà di parlare delle nostre zone d'origine perché in fondo eravamo originari delle stesse aree, lui era di Alessandria, io da parte di mia madre sono di Acquiterme che è sempre lì in quella zona del Piemonte che già declina verso la Liguria e così parliamo un po' delle nostre origini, di quelle zone che ci accomunavano e effettivamente sul piano così del discorso amicale, pubblico, relativo a questioni non filosofico-letterarie ci trovammo più d'accordo probabilmente che sui temi invece della grande letteratura. E poi da quella volta lì lo vidi ancora una volta a una festa della Bonpiani dove brindammo insieme, mi ricordo, ed allora di persona non lo vidi mai più. Ma al di là del mio ricordo personale che è poca cosa, mi ricordo che varie volte con l'amico Gianni Vattimo abbiamo avuto modo a cena di rievocare Umberto Eco che fu suo collega in università come studente a Torino e che poi rimase per tutta la vita amico dello stesso Vattimo. E con Vattimo appunto, Vattimo mi raccontava di quando insieme erano studenti, di quando a Milano andarono insieme a lavorare per la RAI e quindi Eco in qualche modo mi era noto anche tramite questi racconti di Gianni Vattimo che ne parlava sempre con grande amicizia e affetto. Che dire, con Umberto Eco come già dicevo viene meno un gigante della letteratura occidentale italiana e di Umberto Eco se dovessi dire quali libri leggere suggerirei di partire naturalmente dal nome della Rosa, il capolavoro mondiale di Eco e poi anche dallo scritto filosofico sulle categorie dell'estetica di Tommaso d'Aquino che è un vero e proprio capolavoro a cavaliere fra estetica e storia della filosofia. Se dovessi poi invece dire quale delle molteplici riflessioni di Eco memorizzare e scolpire nel nostro immaginario suggerirei quella da tutti citata ma profondissima devo dire secondo cui chi ha vissuto senza leggere ha vissuto i suoi 70-80 anni di vita, chi invece ha letto oltre ai suoi 70-80 anni ha vissuto i millenni della storia dell'umanità perché c'era quando Caino operò, c'era quando Leopardi parlò dell'infinito, c'era quando Renzo e Lucia si sposarono e così via. Ecco in questo senso mi sia concesso dire che Umberto Eco anche egli si è guadagnato la sua immortalità all'indietro come diceva lui perché chi meglio di lui conosceva la letteratura mondiale, egli ha attraversato retrospettivamente tutta la grande letteratura mondiale e dunque si è guadagnato la sua immortalità all'indietro ma poi Eco si è guadagnato anche direi un'immortalità in avanti perché le sue opere resteranno in qualche modo per sempre, i suoi romanzi filosofici, i suoi testi e ciò del tutto a prescindere dal fatto che io personalmente non condividessi molte delle sue posizioni filosofico-politiche, egli in fondo era un ateo radicale che vedeva in Benedetto XVI in Ratzinger un integralista scarso come filosofo e come teologo e non invece come un interlocutore privilegiato come invece lo vedeva Habermas. Anche sul piano politico io non condividevo le sue posizioni di sinistra, diciamo legalista, attenta alla questione morale e poco attenta invece credo alla dimensione della sofferenza dei lavoratori e delle questioni sociali, ma al di là di questo ritengo che Eco resti un grandissimo intellettuale, uno dei più grandi sicuramente della letteratura italiana e non solo contemporanea ed è dunque un autore da cui bisogna sicuramente ripartire anche oggi.